buongiorno oggi si fa l'impacchetto faccio vedere come si fa allora va messo 10 minuti in frigo e l'ho fatto scusate una capigliatura sono veramente bisogna prendere poco alla volta i capelli così poi una cellina esce praticamente scioglie bene 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 dalle mani che cola si inizia così si dà una bella olieggiata poi premato che dopo io la tengo in posa fino a stasera perché dicono che sta in posa e più fa effetto quindi io la tengo in posa per un bel po fino a stasera diventare ultima l'unica cosa che vi consiglio di lavarli bene 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 perché non è molto rimane molto oliosa la situazione parecchio quindi poi ancora un pochino ne riprendo ancora un po anche bene nelle punte